Grande cornice di pubblico, soci, clienti, amici e simpatizzanti all'inaugurazione della nuova filiale di Pellezzano della BCC di Aquara. Il nuovo sportello in località Coperchia permetterà alla comunità, che solo pochi mesi fa ne aveva chiesto l'apertura, di poter fruire di numerosi convenienti servizi bancari offerti dalla Banca di Credito Cooperativo Acquarese. Alla cerimonia di inaugurazione della tredicesima filiale, avvenuta con la benedizione di Don Giuseppe Giordano, hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Pellezzano Francesco Morra e la senatrice onorevole Eva Longo. Presente anche il vice sindaco di Aquara Vincenzo Luciano, madrina dell'evento la nota conduttrice Rai Adriana Volpe, che ha partecipato al taglio del nastro insieme al direttore generale Antonio Marino e al presidente Luigi Scorziello, alla presenza di un folto pubblico molto interessato all'evento. Vedete, noi prima di fare questa scelta, quindi questo passaggio di venire qua, abbiamo studiato un pochettino pure il territorio, abbiamo visto la storia di questo territorio, che è una storia importante, una storia fatta di tante piccole imprese, in particolare agricolo e piccolo artigianato e poi cambiano, è subentrato un po' l'industria e cose con situazioni un po' altalenanti, ma vedete noi siamo quella banca che vogliamo essere sempre vicine al territorio, però vicino alle imprese del nostro territorio, alla famiglia del territorio dove noi operiamo. Che soddisfazione, che gioia direttore, abbiamo inaugurato la tredicesima filiale. Ma devo dire che mai c'è stato tanto entusiasmo intorno ad una inaugurazione come questa volta, sarà stata anche la tua presenza probabilmente, però è stato tutto così bello, è stato anche così partecipato, vedi tutta la squadra, siamo veramente contenti di questo evento. E allora un saluto dal direttore della BCC, un saluto da tutti i nostri soci, i nostri clienti, i nostri amici, a tutti quelli che ogni giorno ci stanno vicino soprattutto. E un saluto da Adriana Volpe.